chissà stai andando fuori roll time si si stavo guardando la mappa 3.85 in questo momento si anche 400 io con passo 60 70 io 70 io 60 60 e questo fiume potrebbe essere quello che sta vicino a Uletta che esce nel Golfo di Salerno Che si fa? Si fa al lungo fiume? No, no, sono sbagliato, sono sbagliato, questo è il fiume, quell'altro che va sulla triadica quindi siamo un po'